ciao a tutti oggi vi do una ricetta fantastica lo spezzatino al nero d'avola è una cosa strepitosa vi do gli ingredienti per quattro persone 600 grammi di patate 4 500 grammi di spezzatino magro del sedano logicamente ci vuole del nero d'avola e vi consiglio di usarne uno buono perché il vostro piatto avrà successo di sicuro io uso quello delle cantine alagna e non me ne sono mai pentita poi ci vorranno un paio di cipolle se vi piace dell'aglio 5 o 6 carote una foglia d'alloro mezzo cucchiaino di brodo granulare di verdura e se vi piacciono del pepe nero in grani e dell'aglio in polvere e infine lui il nostro ingrediente segreto procediamo ma prima vi ricordo che la lista completa degli ingredienti è qui sotto nella descrizione e vi invito a visitare la playlist del mio canale youtube friends e le sue recente dimagranti perché troverete centinaia di altre gustosissime ricette peliamo e tagliamo a dadini le patate tagliamo a pezzettini anche sedano carote cipolle se vi piace anche l'aglio al lavoro scaldiamo una padella antiaderente fuoco alle polveri e non appena sarà calda mettiamo a rosolare la carne e la facciamo dorare a poco alto mescolatela spesso in modo che si colori bene su tutti i lati quando la carne sarà dorata mettiamo il fuoco al minimo e aggiungiamo il nero d'avola mezzo bicchiere aggiungiamo la foglia di alloro e il pepe in grani dobbiamo semplicemente fare evaporare il vino mescolandosi tanto in tanto quando il vino evaporato aggiungiamo l'aglio le cipolle il sedano le carote e le spezie l'aglio in polvere e il brodo granulare di verdura aggiungiamo ancora mezzo bicchiere di vino copriamo tutto con dell'acqua fredda e aggiungiamo anche lui il nostro ingrediente segreto lo mescoliamo quando comincia a subbollire abbassiamo il fuoco al minimo lo copriamo e lo cuociamo per una ventina di minuti dopo 20 minuti lo scopriamo e aggiungiamo le patate gli diamo una mescolata lo copriamo di nuovo e lo facciamo cuocere altri 20 minuti e dopo che è passato il tempo lo scopriamo gli diamo una mescolata e poi lo lasciamo cuocere scoperto finché il liquido non si sarà ridotto e una volta che il liquido si sarà ristretto serviamo ed ecco impiattato il nostro golosissimo piatto unico e a questo punto vi svelerò l'ingrediente segreto è un cucchiaio di concentrato di pomodoro che darà più spessore alla nostra salsa buon appetito e mi raccomando condividete la ricetta con chi vuole fare una dieta sana oppure perdere peso senza fare troppa fatica ciao al prossimo video